Dopo Tokyo sognavo di avere una medaglia che non avevo. Ho sentito questa felicità che spero che tutti sentano nella vita. Però quella felicità io credo che la raggiungi se cadi e ti alzi. Filippo era un ragazzo che ci metteva il cuore più di tutti. Io c'ho ancora il messaggio, c'ho la chat, che l'ultimo messaggio è sei il mio braccio destro. Nonostante l'ultimo messaggio era sempre lui a trasmetterci energia a noi. Vedere i genitori di Filippo che ci sono sempre stati vicini con una passione, con un sorriso. Io quando li guardavo le volte dicevo, come fate? Io penso che un cerchio sia chiuso. Ora bisogna aprire un cerchio più grosso. Vivendoti tutti i giorni vivi talmente tante robe che magari ti discordino le cose un po'... Solo che lui è la parte più razionale perché tu racconteresti tutto. Lui magari sa che cosa si può dire, che cosa no. Lui si attacca a molte più cose di quelle che mi attacco io. Lui ha più memoria, non so, alcune cose. Su questo posso confermare in poco tempo che ti conosco che lui ha più memoria. No, ma perché magari io le lascio, cioè ci rido sopra e passo avanti. Lui invece le se le ricorda. Tutte quelle che mi ha combinato. Capito, io non lo so di quello che ho combinato, però lui le sa tutte. Io invece di quello che ha combinato... Io non me le segno perché se ci rimango male magari in alcune situazioni me le ricordo ovviamente. E poi gliele fai pagare, giusto? Cioè te le leghi al dito. Io le ricordo? No, no, lui fa mutismo selettivo. Mutismo selettivo. Quando non sopporto più nessuno sì, mi isolo. Mutismo selettivo. Te la fa pagare del tipo che non ti parla. Sì, sì. Poi io... E poi tu gli dici che cos'hai, lui gli risponde niente. No, no, anch'io sono un po' così. Lui sta benissimo cos'ho, se c'ho qualcosa. Allora anch'io sto zitto, mutismo selettivo entrambi. Poi dopo un certo punto non ce la faccio più perché dico, quindi allora esce tutto e magari parliamo per tre ore, no? Però fino a prima... Sì, va va? Vabbè, quindi siete una coppia, abbiamo capito. Bene, ufficiale. Allora, ciao Giacomo, ciao Andrea, grazie mille per essere venuti qui. Grazie a te. Ci siamo conosciuti e incontrati a Trento per il Festival dello Sport. Ce l'avevamo già visti poi anche a Parigi, però ovviamente sai, nel marasma ovviamente di quello dell'impresa che avete compiuto, insomma, ci siamo conosciuti poi meglio in quell'altra occasione. E quindi mi ha fatto molto piacere poi invitarvi per parlare della vostra storia. Questo è un caso particolare perché qui appunto di solito abbiamo solo un ospite e cerchiamo di scavare all'interno della sua storia, della sua carriera, della sua vita, però qui siete venuti in due. Uno perché così almeno fate metà del quattro di coppia, no? E poi perché comunque voi appunto, come avete già fatto capire da questo bisticcio iniziale, vi conoscete davvero da tanto e da tanti anni e quindi insomma potete raccontare un bel pezzo di vita insieme. Eh sì, un bel pezzo. Più o meno viviamo più tempo assieme noi due che con la famiglia, quindi sono 300 giorni l'hanno assieme. Eh sì. Più o meno. Togli Natale, qualche giorno a casa, qualche festa. E con gli altri 65 giorni in modalità aereo che non vi sentite proprio scherpare. No, no, noi siamo anche bravi amici, ci vediamo fuori, eh. Anche se lui non mi vuole io lo cerco sempre. Siamo bravi amici, quindi ci vediamo anche fuori. Mi cerchi più. Sì, sì. Oh, ma non mi chiami più, non mi cerchi più. Posso venire da te? Faccio io, lo rincorro io un po', no? Perché vabbè, è fatto un po' in maniera diversa. Però lui, a me fa molto piacere andare da lui, dove abita lui, che abita in un posto incantevole. Vabbè, raccontate il tuo posto, Olcio. Vabbè, ma è il mio paesino, è una frazione sul lago. Io ci sono tanto legato. Lekko? Infatti, di Lekko, sì. Ci sono legato perché tutti mi dicono di Olcio, sei chiuso. A me piace casa mia, c'ho il lago, c'ho la montagna, c'ho la moto, c'ho tutto quello che mi serve, quindi... Però di a che livello sei legato a Olcio? Beh, c'ho lo tatuaggio, lo sono tatuaggio, Olcio. Tatuaggio. Olcio, è importante, eh? Tutti lo dicono, quelli di Olcio sono un po' matti, sono particolari, ognuno c'ha... Effettivamente, è vero, quasi tutti di Olcio li guardi, sono un po' particolari. Se li scavi, trovi quella di ognuno. Sono fantastici. Io quando vado da loro, perché ogni anno ho finito i mondiali, quindi a fine stagione, per fortuna riusciamo sempre ad andare bene, quindi Olcio fa sempre una grande festa. E io dal 2018, che abbiamo fatto, abbiamo visto il nostro primo mondiale, assieme facciamo questa grande festa da lui, che è pazzesco, una comunità, un calore che ti dà, che neanche è la mia città. Vado sempre col sorriso e anche purtroppo quando non siamo andati bene, hanno comunque fatto la festa, hanno comunque il sorriso, hanno comunque acclamato come se avessimo vinto i mondiali. E questa cosa non me la scorderò mai, perché andare da loro è veramente, glielo dico sempre, è una famiglia. Poi sai, forse era anche la cosa più particolare dei paesini più piccoli, perché tutti conoscono tutti. Ma io abito in un paesino molto piccolo anch'io. Anche se è provincia di Cremona comunque. Sì, sì, in provincia, ma fuori Cremona abito in un paese molto, molto, molto piccolo anch'io, ma... Non è lo stesso calore. No, niente a che vedere proprio. Visto che abbiamo già parlato un attimino del post, il luogo da cui venite, ecco, partiamo proprio dagli inizi, cioè da come vi siete approcciati al canottaggio, perché entrambi anche in questo caso avete un po' un qualcosa in comune, cioè tu Giacomo ti ha portato un po' tuo padre, no, ad avvicinarti al canottaggio, mentre tu Andrea, c'è tutta la famiglia, quindi lo avevi scelta praticamente. Esatto, vabbè io ho incominciato perché Mandello è il battesimo, il canottaggio, ogni ragazzo c'è il corso estivo e penso che il 90% dei ragazzi passano dalla canottieri, poi magari ti piace, non ti piace, continui o smetti, però io ho iniziato che le mie due sorelle, mio fratello praticavano, quindi ho detto vabbè io incomincio anch'io, però nel frattempo facevo basket e nuoto, poi ho smesso nuoto, ho iniziato rugby, ho fatto un sacco di sport che mi piace proprio tutto lo sport. Quindi anche il rugby avete in comune? No, a me piace molto vedere il rugby, perché mio padre è un appassionato di rugby, mi piace vedere le partite, però ecco a Cremona era impossibile fare il rugby, non c'era nessuna, quasi società, quindi ci accomuna credo la passione. A cui a te ti piaceva, però lui l'ha provato, tu invece… Lui c'ha anche la stazza, ma l'hai visto con te, mi spezzavano in due. L'ho smesso perché c'era gente molto più alta, magari alta come lui, pesante come me, a un certo punto ho detto… Erano botte, eh. Troppe legnate, ho detto fammi fermare un attimo perché ho allenamento tutti i giorni, arrivo di là, prendo le legnate, ho detto basta. E invece tu come hai iniziato? Allora, io ero un ragazzino bello scalmanato, alle medie soprattutto, bello scalmanato. Ho iniziato con tennis, ho fatto tanti anni di tennis, però mi arrabbiavo tantissimo, non riuscivo a sfogare tutta… no, questa rabbia, perché non era rabbia, però ero proprio attivo, no? Allora ero sempre stato alto, molto longilineo, mio padre comunque un amante di sport, ha sempre fatto sport, poi noi viviamo in una canottieri, a Cremona ci sono tutte queste canottieri, i Bissolati, Baldesio, Flora, che quindi nascono come canottaggio, no? Noi siamo anche soci in questa canottiera e allora mio padre mi fa, ma perché non vai a provare il canottaggio? Cioè hai la stazza, sei alto, le leve lunghe servono nel canottaggio, provaci. E era uno sport molto faticoso, no? Nessuno mi dava un euro perché comunque io ero un po' farfallone, no? Però appena ho provato il canottaggio ho abbracciato proprio la fatica, cioè arrivavo a casa stanco, arrivavo a casa soddisfatto perché abbracci proprio questa… fatica che si parla solo di fatica e anche all'inizio, no? Io ho iniziato, non è anche troppo giovane, 13 anni, il divertimento è poco perché magari vedi i bambini che iniziano, giocano un po' con la palla così, però anche per loro perché sono bambini, cioè li fanno correre, li fanno fare remergometro che è il nostro attrezzo che vediamo in palestra, cioè è già faticoso, non è come correre dietro un pallone. Poi uscire, andare sul po', io all'epoca andavo sul po' alla natura così, ma proprio infatuato questo canottaggio, mi ha rapito, sì. Guarda, mi è piaciuto tantissimo il fatto che hai usato come verbo abbracciare la fatica, perché comunque non è che la devi solo sopportare, no? A un certo punto in questo tipo di sport che avete scelto veramente ci devi convivere e devi anche voler bene a questa fatica, no? Tu ti sei mai sentito, visto che tutta la tua famiglia Andrea appunto faceva canottaggio, magari di, non lo so, di essere un po' più costretto ad abbracciare questa fatica o proprio anche a te è arrivato naturale? Ma no, diciamo che a me piace far fatica, cioè proprio quando incomincio qualcosa che la prendo come una sfida, quindi se per raggiungerla devo fare tutta la fatica del mondo, rinunciare, mi ci metto e cerco di raggiungerla, però poi c'era anche la compagnia, c'era il lago, c'erano tante passioni diciamo comuni, quindi in compagnia è una cosa che fai, quando la compagnia è buona ti alleni e fai tutto molto volentieri. Ma voi sognavate di fare questo dai bambini? Allora, io sono sempre stato step by step, magari ero in una piccola realtà di Cremona, no? Allora, il mio obiettivo era, ok, diventa il più forte della società, raggiunto quell'obiettivo lì, vedevo gli altri che magari vincevano gli italiani, all'epoca dico, cavolo, vincere un italiano, sai essere il più forte d'Italia, ok, l'obiettivo è vincere gli italiani. Dopo che ho raggiunto di vincere gli italiani, guardavo gli altri ragazzi, vanno gli europei, i mondiali, avevo i calendari della categoria junior, quindi entrare il 18, l'obiettivo era andare là. Sono arrivato là, sono riuscito a vincere i mondiali junior e poi dopo lì si sblocca però il mondo professionistico, cioè quando vinci riesci a vincere un mondiale junior capisci che quella può essere la tua strada. E allora lì si è aperto il mondo olimpico e il mondo della squadra senior. Però ho sempre pensato a una cosa alla volta, però dopo, verso i 16 anni, ho capito che questa era la mia strada, certo. Invece tu quando hai capito che questo sarebbe stato il tuo lavoro, la tua vita? Diciamo che a me non era tanto il sogno, io facevo un muratore, quindi l'obiettivo era lavorare, nel senso. Quindi lo sport lì l'avevo messo un po' da parte studiando perché all'inizio man mano che crescevo nelle scuole ho mollato uno sport alla volta e sono rimasto col canotaggio. Poi c'è stato un momento nella mia carriera che ho detto vabbè qua i risultati non arrivano, ho provato a cambiare diciamo società perché c'era una squadra un po' più numerosa, più possibilità, non c'era stata la possibilità e gli ho detto vabbè basta, ho smesso. Poi in un attimo mi sono ritrovato cicciottello perché mangiare, ho sempre mangiato tantissimo e ho detto devo ripartire, quindi ho ricominciato e in realtà un po' per caso facendo un test della federazione mi sono ritrovato con dei valori buoni, però in barca io ero ragazzo basso cicciotto e quindi non portato per il canotaggio, infatti all'inizio è stato un po' difficile e quindi il primo anno è stato un po' così, da lì in poi si è sbloccato tutto perché è arrivato tutto in crescita, poi la voglia di fare bene, il primo anno ero l'ultimo e il mio obiettivo era prendere la fornitura, l'ho provato a mia mamma, io voglio il Paraspruzzi che sarebbe quello per l'acqua, io voglio il Paraspruzzi della nazionale perché mi piaceva un sacco e quindi per assurdo il mio obiettivo era vestire la maglia e poi da lì è arrivato tutta una cosa dopo l'altra, cioè nel 2016 ho vinto i mondiali junior e l'anno dopo ero in barca con lui. Sì, ma il nome Panizza è sempre stato un po' una leggenda, perché? Perché lui aveva il fratello che faceva canottaggio, come ti ho detto, e alle volte sai, gli atleti di tutta Italia vanno in altre società perché magari fanno le gare con persone di altre società quindi vanno un po' in giro, no? E io ero l'Abissolati in quell'epoca e si sentiva a parlare di questo Panizza, no? È arrivato questo Panizza d'inverno, è uscito in canottiera, come fa? D'inverno a Cremona, no? Che però non era lui, era suo fratello perché io ero piccolo, quindi lui era manco iniziato canottaggio forse, è arrivata questa leggenda di Panizza, sono chiesto Panizza, ho detto ma come faccio? Io quando esco d'inverno mi metto due termiche, due pantaloni lunghi, questo qua è uscito in canotta o no? Lui un altro, cioè lui esce così nudo praticamente, quindi poi ho conosciuto il fratello, ho capito qualcosa, dopo mi sono rivenuto tutto in mente, ho detto ok, ho visto allora, sono un po' così pazzerelli. Hai avuto la conferma del fatto che c'è della pezzia? A casa lo prendo in giro mio fratello perché arrivo a casa e dico ricordo che hanno di te è che sei calzo, col body che cammini d'inverno con magari zero gradi, vai ad allenarti e torni direttamente così come sei vestito. All'inizio ero uguale anch'io, poi gli allenatori devi coprirti, ti ammali e tutto... Si è imborgesito, si è imborgesito anche voi. Infatti dopo due o tre anni, tanto lo dico, ci sono dieci gradi, ci ho freddo dico, un periodo a casa fa sempre bene, ma anche dal punto di vista lavorativo, magari dopo anni di canottaggio ti abitui solo a fare l'atleta e su alcune cose ti perdi un po' via e dico, al mio allenatore io ho sempre detto, io devo tornare a casa a lavorare un po', perché almeno mi sveglio, cioè devo... sto dormendo troppo, io mi alzo, mi alleno, metto via la barca, tiro fuori la barca, c'è tutto così, a un certo punto ti abitui e essere pronto sul lavoro secondo me è sempre una cosa importante anche nello sport. Beh, credo un po' tutti i professionisti entri nella monotonia, nella catena di montaggio di Charlie Chaplin, in effetti è così, però è anche la vita del professionista, quindi alle volte lui veramente dice, basta, vado a fare il muratore, perché anche la cosa più strana o diversa, cioè ti sembra bella, capito? Perché sei veramente molto rigidi, soprattutto i professionisti, si avvicinano le Olimpiadi, c'è, diventa proprio rigore, disciplina lo stato pure, in effetti. Poi, cioè tu ad esempio, avendo fatto parte anche del college, no, di Piediluco, cioè tu già da ragazzino, ad esempio, avevi questo tipo di routine molto più initalesca, per dire. Ecco, io la devo ringraziare tanto la mia famiglia, perché adesso se ci penso dico come ho fatto, cioè adesso faccio fatica a svegliarmi alle otto e raduno alle sette e mezza, che lui mi cazzia sempre, ma svegliati, ma svegliati, ma io dormirai fino all'ultimo, no, faccio colazione in cinque minuti e vado, ma là io mi sveglio tutte le mattine alle cinque del mattino. Per fare allenamento prima di andare a scuola. Prima di andare a scuola. Poi di nuovo dopo scuola. Di nuovo dopo scuola. Per via via sera che cena, andavi a dormire, perché? Qualche mese così. Almeno poi le sette e mezza non diventano un problema. Perché se appuntamento alle otto, Giacomo 8.05. Dai, sono diventato bravo con te. No, l'ultimo anno è stato bravo. L'ultimo anno è stato bravo, perché sei un ritardatario adesso. Non è che è il ritardatario, però se la prendi un po' con comodo e quindi… Perché deve recuperare tutti gli anni in cui invece era troppo… No, lui in questo mi ha aiutato molto, perché poi essendo uno sport di squadra, il nostro compagno si deve fidare di noi e quindi anche fargli vedere a lui che io mi sto impegnando per arrivare in orario, cioè è una cosa grande, capito? Sembra una cavolata, dice, arrivi in orario, però uno che è sempre arrivato in ritardo ti fa vedere che sono piccoli cambiamenti, no? Io sono un po' più naif su queste cose. Ma sì, il ritardo, ma sì. Invece con lui ho capito che… Cioè, più che altro dai un equilibrio, no? Dai una linea alla tua barca e a quello che deve essere l'obiettivo. L'importante, cioè, il parlarsi. Perché io anche da ex orgoglioso, lui è anche un bel po' orgoglioso, il tenersi le cose dentro, che l'abbiamo imparato, secondo me, dalla nostra vecchia avventura per Tokyo, cioè tenersi le cose dentro, mangi solo della gran rabbia e ti fai solo il sangue amaro. Invece, se tu pensi una cosa, piuttosto che litigare, parlare. Cioè, il dialogo ho capito che è la cosa più importante, soprattutto in un ambito di gruppo. Sì, dovrebbe esserlo in tutte le sfaccettature, credo, della vita che sia, comunque anche lavorativo, familiare, eccetera. Però soprattutto se tu hai a che fare comunque con una squadra di persone diverse, e voi avete la fortuna che ormai vi conoscete bene, vi conoscete da tanti anni, però avete comunque anche cambiato persone con cui avete gareggiato, vi siete allenati, e sono personalità diverse, che vengono da posti diversi, hanno una mentalità diversa, e quindi bisogna imparare a conoscere le altre persone, a approcciarsi con queste persone, e il modo migliore è per forza dialogare, insomma. Vi siete mai trovati, magari in contrasto con qualcuno anche della vostra barca? È già tra di noi succede. No, tra di noi succede spesso, sì. Cioè, spesso, però, io e lui abbiamo imparato con me nel tempo a rimetterci subito a posto, però succede, perché lui, ad esempio, è molto più, come dire, più precisino di me su alcune cose, no? Io magari dico, ma sei tranquillo, no? Lui mi dice, no, non sto tranquillo, e si incavola. Sì, come è andato quest'anno praticamente, l'anno olimpico. Io ero preoccupato fin dall'inizio di come andava la barca. Dice, no, no, tranquillo, va bene, faccio... Vabbè, secondo me non va benissimo. E prima di tirar fuori le cose a lui, magari le tenevo dentro e cercavo di fargliele capire con le buone, però molte volte con le buone non arrivava. Quindi arrivavo a un certo punto che... Esplodevi. Partivo a mille. Infatti, beh, c'ho in mente l'ultima che è stata a Varese, prima, cos'era, prima di Lucerna. Lì proprio l'ho... L'ho massacrato. Ero arrabbiatissimo perché avevo in mente sta cosa, stanchessa d'allenamento. Vedo lui davanti, ho l'impressione che magari non stia dando il cento per cento. Lì tipo, l'ho partito, sono partito a mille. Tu eri proprio. Io mi sono messo a piangere, ti giuro. Hai fatto piangere? No, ma perché... No, no, imbarca no. No, ma veramente, cioè... Ma veramente perché... Allora, se me lo dice un'altra persona, non ha lo stesso peso, capito? Cioè, se me lo dice lui, dico... No, veramente non lo sta dicendo. Cioè, perché ha talmente un'importanza lui nella mia vita, nel contesto con cui abbiamo affrontato tutto. Cioè, che le parole sue valgono per dieci, capito? Quindi vedermi che mi massacra. Io dico, no, no. Non gli ho parlato per tre giorni, eh. Ho detto agli allenatori, no, non gli faccio più di quattro di coppia. Gli ho detto, metti qualcun altro. Io, ragazzi, Andrea non si fida in me, non posso fare quel ruolo lì. Gli ho detto, vado via. Cioè, ho proprio parlato con gli allenatori, ho detto, fammi scendere dalla barca, per favore. Questo quanto prima delle Olimpiadi? No, questo è prima... Quattro mesi. Cioè, durante questa stagione. Durante questa... Se non vedi sbloccare una situazione, comunque ti preoccupi, perché dici... Io dal 2021, dopo Tokyo, che abbiamo preso la bastonata della finale, ho detto, vabbè, devo contare su di lui, perché io e lui dobbiamo alzare il nostro livello in modo da chiunque ci mette in barca continuare a competere. È stato bravo in questo, è vero. E quando lo vedo, che magari, secondo me, abbassa lo sguardo, o comunque, quest'anno soprattutto, io cerco subito di... Dico, cazzo, devo contare su di te. Non fare così, perché sennò, vutiam via un'altra Olimpiade. L'allenamento dopo si è impegnato, più del solito. Cioè, è proprio andata proprio bene la barca. Senza dire una parola, eh. Perché io poi quando... Io non parlo più. Poi, di solito, sai, il capovoco è quello che dà un po' più delle correzioni, magari cosa vuole la barca. perché comunque ho dietro tre persone, quindi sento tutte le persone e dà un po'... Ho fatto tre giorni a non dire una parola. Però la barca andava bene. La barca andava bene. Poi dopo, dopo tre giorni, mi chiede scusa. E gli ho detto anche bravo, ho detto bravo. Allora mi ha chiesto scusa e io... Non ci credo, me l'ha detto. Cioè, tipo, dai, un bambino che si... Di solito non lo chiede mai. Sei tu che fai il primo passo, comunque. Sia nel... No, no, no. Ma non sempre. Io ho lasciato andare abbastanza col fluo la nostra chiacchierata perché ho fatto tutto questo strappo alla regola, no? Oltre ad essere in due, anche invece di iniziare subito con la scatola. Mi piaceva perché eravate già abbastanza liberi e quindi sono andata dritta così, no? Ogni puntata la iniziamo appunto aprendo questa scatola. Allora, so che voi eravate indecisi su due oggetti. Ne avete scelto uno da mettere qua dentro. Adesso l'apriamo. Ce li abbiamo tutti e due, in verità. Ok, ok. Però tutti e due dentro? No, ok. Perfetto. Allora apriamo prima questo e andiamo a vedere, insomma, di cosa si tratta e mi spiegate anche il perché. Io adesso lo tiro fuori e voi mi dite. Che più o meno c'è già quello di cui abbiamo parlato perché questo rappresenta la nostra unione. Ok. Allora, è ovviamente una medaglia europei 2017. Bella. La prima insieme, immagino. Ok. Secondo me rappresenta, diciamo, tutto il percorso fatto assieme e che non è stato facile perché nel 2017 avevano già fatto le barche, eravamo rimasti io e io in doppio. Quindi ci avevano praticamente fatto fuori e io dico Jack, io mi arrabbio. Io mi arrabbio. Io vado a fare il muratore. Mi ricordo che eravamo a Sabaudia e io dico, è un po' sì, ci siamo rimasti fuori, siamo… E io, va bene, dico di tutti coloro in barca perché la butto un po' sul ridere ma comunque su alcune cose c'è sempre un fondo di verità. Sempre. Nello scherzo c'è sempre un fondo di verità. E quindi erano rimasti fuori, poi un po' per caso siamo riusciti a salire su una barca e abbiamo fatto questa gara che è stata… La nostra prima gara. La nostra prima gara assieme, proprio sempre sul quattro di coppia, che è la barca che ci ha portato fino a Parigi. E siamo, diciamo, rimasti gli unici due punti fissi della barca. Magari all'inizio lui il primo anno era il 2, io ero il 3, poi lui… Cioè abbiamo cambiato varie posizioni però… Gli uomini stessi… La 2017 ad oggi, voi due siete gli unici, sempre rimasti, sì. Sempre sulla barca, sempre. E questo è veramente l'inizio della nostra storia. Cioè se ora mi guardo indietro, 2017-2024 sono tanti anni, eh. E sicuramente questa è la partenza. E siamo andati anche bene a questa gara, però poi al mondiale, quindi la gara più importante dell'anno, abbiamo fatto schifo, ecco sì, c'è schifo, perché siamo arrivati ultimi praticamente, però eravamo giovani così, e loro l'anno dopo ci siamo ben tirati sulle maniche e siamo saliti sulla barca più forte della nazionale, che anche lui lì era preoccupato. E io un po' per caso, perché… Per caso, sì. Le barche di camostaggio, le migliori escono per caso, eh. Stessa situazione. Che non sono costruite, diciamo. Esatto, l'hanno già fatto, il quattro di coppia l'hanno già fatto, noi eravamo in doppio. Fuori anche lì, fuori dalla squadra, ero incavolato, ma mi fanno fuori, fanno fuori. Poi ci hanno messo i due ragazzi del doppio sulla barca insieme, Luca Rambaldi e Filippo Mondelli. Abbiamo fatto un quattro di coppia, andavamo fortissimo e… Fortissimo, fortissimo. In quell'anno lì è stato in due settimane di preparazione, abbiamo vinto la Coppa del Mondo e poi abbiamo vinto l'Europeo, vinto il Mondiale e quella è stata la barca che è andata avanti per un paio d'anni. Sì, ma aspetta, spiegagli, non è un po' teste calde, no, tutti? Cioè, quell'anno avevamo fatto tre ori, sulle tre gare che dovevamo fare, tre ori. Andiamo al Mondiale, quindi per noi il Mondiale è sempre l'apice dell'anno, la gara più importante, ok? Che facciamo ogni anno? Barca strafavorita, perché avevamo vinto l'Europeo bene, avevamo vinto la Coppa del Mondo bene, quindi parte a favorita. Cioè, non c'erano altre nazioni in giro, no? Perché bene o male siamo sempre lì. Arriviamo, facciamo la batteria, cosa vuoi che sia batteria? Figurati se non vinciamo, no? Ultimi. Ultimi. Ultimi ma a venti secondi, cioè siamo fermati e ne passava il primo, quindi noi dovevamo fare i recuperi. Cioè, la barca che vince gli europei va a fare i recuperi, la panico. No, lì non ci siamo parlati, penso, per quattro giorni, perché poi non capisci cosa è successo. Però non ce l'ha, cioè... Non avete capito subito qual era il problema? No, 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 non capisci qual era il problema. Tuttora non so bene quale sia stato il problema. Per coprire i secondi arriviamo, così anche... Sempre per poco. Cioè, perché... Ma com'è possibile, va? Finale... Non so... Acqua sfavorita, tra l'altro. Acqua sfavorita, acqua 1, perché l'acqua centrale sono le favorite, no? Finale... Ma primi di tre secondi vinciamo. Io mi trovo lì, a mille metri prima, la barca ancora va, dico, ma cos'è? Ma io sentivo l'aria che arrivava su di noi e ci portavo al traguardo, no? Pazzesco, guarda, quell'anno in lì è stato pazzesco. Voi comunque, in generale, dal 2017 ad oggi, comunque, nel mezzo ci sono anche quattro titoli europei, appunto il mondiale che avete citato. Ah, sì, sì. Insomma, di cose ne avete fatte e vinte insieme. La cosa bella è che tutte le gare che abbiamo fatto a Coppa del Mondo europeo e mondiali sono sempre a podio. È vero, sempre. E io prima di Parigi, per prenderlo un po' per il culo, gli dicevo, pensa se a Parigi scendiamo dal podio. Sette anni che non scendiamo dal podio e siamo scenditi solo a Tokyo. Gli dicevo, pensa se scendiamo a Tokyo e a Parigi. Comunque, secondo me, cioè, lui rideva scherzava, no? Con quella battuta. Però forse era più per esorcizzare per se stesso questa cosa. Può darsi, può dare. Allora. Ma io lo faccio su tutta. Io dico sempre, quando Andrea si lamenta, andremo sempre bene. Quando Andrea dice che va tutto bene, c'è qualcosa che non va. Lì mi preoccupo, sì. E ti sei lamentato anche a Parigi, quindi, o ok? No, più che lamentato, era molto, molto, come si dice? Era una situazione anche difficile. Molto pretenzioso, ecco. Lì c'era il compagno nuovo, da due o tre settimane. È vero. La barca è andata bene per due settimane, ci presentiamo in campo a Parigi, va bene. A un certo punto inizia a andar male. Dico, no, raga, due settimane che va bene, non iniziamo a fare un allenamento bene, un allenamento male. Cioè, non esiste che diventiamo quattro incapaci, per assurdo. E domani c'è la gara. Cioè, è da dire che in una barca multipla, soprattutto al nostro livello, basta che io do il 2% in meno. Andrea dà l'1% in meno. L'altro dà il 4% in meno. L'altro dà il 3% in meno. Cos'è il 3% sul 100%? Niente. Però si accumula. Certo. E quello che tu senti perfetto diventa, dici, ma cos'è? Non è mai successo. Diventa uno scatafascio. Ma in verità, perché poi se all'Olimpiadi ogni cosa la vedi dieci volte più grande, no? Quindi se fossi in allenamento uno non ci fa neanche caso. Però veramente all'Olimpiadi tu guardi se le scarpette sono bagnate, se le manopole sono asciutte, lì a ogni minima cosa. Tutto diventa importante. Sì, poi noi veniamo dalla pressione altissima, perché noi abbiamo tutti i fantasmi di Tokyo. Cioè, quindi è stato tosto. È stato tosto. La pressione mentale è stata veramente tosta a Parigi. Perché infatti a Tokyo, insomma, il quinto posto che vi ha lasciato un po' quella mare in bocca, ecco. Come avete superato quella parte per far sì che… E come avete trovato anche la forza di ripartire, no? In quel triennio per portarvi a Parigi. Vai Panis. Ma non lo so, in realtà un po' col tempo, perché in realtà come il primo anno ci siamo tipo tutti e quattro, ognuno per la propria strada, tutti un po' in silenzio. Magari io ci confrontavamo per un po' la situazione che si era creata, però è stato un periodo un po' così. Brutto. Finché non ci siamo ritrovati assieme, quindi vabbè ti ritrovi assieme, devi fare barca assieme e dici ok, ripartiamo. Che poi in realtà quell'anno lì è stato anche strano anche quello, perché io ero rimasto fuori, ho avuto un problema al cuore, quindi io ero a casa bello tranquillo, lui era lì che preparava la barca con altri nuovi, casualità, si ammalano tutti di Covid, arrivo io con una settimana di allenamento che devo fare la gara. Pazzesco. Impressionante. Pazzesco, io mi ricordo ancora, io facevo la barca con altre tre persone diverse, io sono sempre rimasto lì davanti a Capovocano, per fortuna non ho avuto i suoi problemi e c'erano altri due ragazzi che dovevano fare un'altra barca, il doppio. Io faccio la barca con altre tre persone, siamo a una settimana dalla prima Coppa del Mondo del 2022, non la prima gara per aprire la stagione post-Olimpiadi. Il mio compagno dietro si ammala e sale un ragazzo che doveva fare il doppio, come riserva di Covid. L'altro dietro si ammala. Allora mettiamo su un'altra riserva. Poi arriviamo, stiamo partendo per la Coppa del Mondo a Lucerna in Svizzera e chiama questo ragazzo e fa ragazzi sono ammalato e anche lì allora chiamano lui, mi chiama e fa facciamo i viaggi insieme, va bene facciamo i viaggi insieme. Arriviamo là, facciamo la batteria, andiamo bene, il nostro compagno di barca, quindi saranno formati tre quarti della barca che ha fatto l'anno, ha finito l'anno, no? Si ammala anche il ragazzo che era in barca con noi. Allora chiamano uno da Varese e dico, ma vuoi venire a fare la Coppa del Mondo? E da lì, miscela, si crea una barca veloce. Cioè, pensate il caso. Sempre della casualità, certo. A caso, quella è veramente bella, perché io ho zero allenamento, cioè proprio ero non allenato. L'altro, chiumi che problema aveva avuto, forse il Covid aveva preso, quindi uno aveva appena fatto il Covid, io non ero allenato, c'era solo lui allenato su quella barca e l'altro ragazzo che voleva andare a fare gli europei under 23. Perché era più piccolo di noi. Ma è chiaro, abbiamo fatto dieci colpi, è arrivato vento e ho detto, basta, si è spacciati. E' finita, pesantissima, una sofferenza. Abbiamo tirato fuori una miscela, perché soprattutto nelle barche multiple, cioè la casualità, no? Magari metti quattro più forti, più talentuosi, non vanno niente. Abbiamo trovato questa miscela, pronti via, perché noi abbiamo fatto la semifinale di una Coppa del Mondo con quattro chilometri, dove le barche le prepari per mesi e mesi. Mi immagino veramente la barca un po' come un'orchestra, no? No, bravissima. Dove tutti veramente devono fare il proprio mandare a tempo per creare una sinfonia, no? Che sia una melodia che sia perfetta. Giustamente è l'occhio da uno che vede fuori il canottaggio, no? Ma più che il tempo, che vero o male tutti sanno seguire quello avanti, ok? Ma sta nel come tu fai il tiro in barca, cioè come tu ti proietti verso la barca e come spinge il tuo compagno. Perché più la mia spinta è uguale alla sua, più la barca va bene. È proprio come più mi riesco a mettere nel suo corpo, lui si riesce a mettere nel mio corpo, ma proprio a livelli di piccolezze. Sì, devi inserirti nell'orchestra, vero assurdo. A Parigi, con... ok, l'Olanda che va, insomma sono imprendibili, però spoiler, mi hanno detto che probabilmente si ritira, giusto? Quindi forse... L'ultima volta hanno detto così, quindi... La prima domanda che abbiamo fatto appena scesi... Oh, complimenti per loro, eh, ma buona, avete finito. Pazzesco. Sì, però capisci che l'Olanda è una nazione dove il canottaggio sta al primo posto. Quindi non succede, eh, perché due come loro, comunque sono sempre due fenomeni, però escono due e ne arrivano altri due così. Certo. Cioè in Italia... Uno da due metri ne arriva un altro da... Da due metri e tre. Cioè, togli Andrea, non esiste un altro Andrea Panizza, ok? Cioè togli un altro Luca Rambaldi, non esiste un altro... Togli un altro me, magari esiste, lo spero, per il futuro, però è difficile. Cioè loro hanno un riciclo pazzesco. Quindi una volta che avete capito che, ok, l'Olanda va, però noi andiamo a lottare, no? Per quel podio e... Non lo capisci? Non lo capisci? Cioè da metà gara, alla fine, secondo me, è volato, almeno personalmente è volato. Gli ultimi 500 non sono volati. Tu non riesci neanche a renderti conto, appunto, come in questo caso, l'Olanda che va, no? Non c'è stato il tempo di ragionare, perché è successo in 500 metri alla fine. È scappata dai 1000 ai 1500, e ai 1000 eravamo lì. Il tempo di pensare, se fra 500 metri sono lì, erano già andati via, quindi... Ok. Sì, non devi pensare in quelle gare. Io ho imparato a... Anche se hai le barche di fianco a te, ad esempio, e quindi la vedi che sono lì, cioè... No, no, lo fai, inconsciamente lo fai, perché io lo sento, cioè lui ha fatto una gara pazzesca, perché poi lui è sempre stato al numero 3, no? E io al numero 2 avevo sempre un'altra persona, però due settimane alle Olimpiadi lui è venuto dietro di me e non aveva mai fatto il numero 2. No, l'avevo fatto, ma è un'altra... Sempre avevo fatto resistenza, facevamo 500 metri velocissimi davanti a tutti, dicevi, ah, poi saltavo. Vero, l'aveva fatto, ma sempre negli anni, figurati, dal 2017 al 2024, tutte le volte che lui ha provato a stare al 2, tempo una settimana e tornava al 3, ma non perché non era bravo, perché proprio ha delle caratteristiche, si riusciva a mettere meno nel mio corpo rispetto a un'altra persona. Ok. E poi, la due settimane prima dell'Olimpiadi è salito lui al 2 e io ho detto, Andrea, io ti voglio, solo a te al numero 2. Primo perché mi sentivo molto più tranquillo io, mi sentivo più rilassato e contavo, cioè io ho una fiducia pazzesca a lui in gara, no? E lui ha fatto delle gare a Parigi pazzesche, secondo me di sopra proprio di quello che lui pensava. Avendolo al 2 io sentivo tutto quello che faceva, come reagiva. E c'è stato un momento in cui quindi il via e la spinta l'ha data lui? Eh, lui è il numero 3, sono proprio il motore della barca. Non è che dai tanti via. No. Cioè, almeno io personalmente… Sì, è una questione di sensazione, cioè come dice lui, lo senti? Magari lui e il numero 3 richiamano a volte dei via. Ok. Io non so perché negli anni, piuttosto che chiamare via, lo faccio sentire. Cioè, faccio un colpo, da un colpo all'altro, bianco o nero, senti che parto e la barca s'attacca. Cioè, meno male. Sì. Cioè, quei 300 metri d'arrivo dove avete fatto l'ultimo sprint. Lui lo dice con una semplicità, do un colpo, parte e via, ok. Ma non è proprio così. Cioè, nel senso, metti che si dà… mettiamo 300 watt, ok. Quindi a 300 watt che sei già al massimo, ok. Lui è una delle pochissime persone del mondo che da 300 watt riesce ad andare a 400 watt in un colpo solo. Cioè, che io se mi ci metto è impossibile, capito? Quindi lui è proprio… Cioè, tipo una Ferrari, capito, da 0 a 100. Cioè, lui va… boom, va. E infatti si dice, quando parte Vanizia, tirate giù i remi, perché lui ti porta tutti. Ah, wow. Il problema è che si è creata sta cosa che è bruttissimo. È bruttissimo, perché a Parigi io ero quasi spaventato perché dico, ok, gli ultimi 500 tutti si aspettano qualcosa da me. Tutti, sempre. Dico, ma io ero già al massimo. Quindi dico, ok, come faccio? Cioè, a volte ci penso pure, perché sei al massimo e tu arrivi lì che tutti si aspettano, tanto parte lui. Cioè, in alcune situazioni… C'è anche la pressione di questo. No, è bruttissimo, perché a volte stai veramente male e tu dici, io non riesco a dimostrargli che parto gli ultimi 250 metri a risolvere la gara. E quindi ogni volta arrivi lì e dici, vabbè, proviamo a fare qualcosa. E poi ci provi, però negli anni si è creata sta cosa per me terribile, perché si aspettano tutti veramente… cioè, arrivi alle boia rossa che sei punta a punta e dicono, ok, abbiamo vinto. Più o meno. Ognuno è il suo, però, io l'ho sempre detto. Lui è vero, lui è proprio il risolutore della gara, però ognuno è il suo. Cioè, lui ha delle pressioni per questa cosa, io ho delle pressioni per altri, perché poi il capovoga dà un po' l'input di come fare tutto il movimento e la gara, no? Quindi, poi gli allenatori fanno tanto punto di riferimento su di te, cioè, metti che tu sbagli una cosa e tutta la barca lo sbaglia, c'è proprio una concatenazione questa. Quindi per me la pressione… è molto più una pressione di testa che di fisico alle volte, perché ho un compito che nel tempo hai imparato a fare, però devi essere molto lucido mentalmente, perché se tu ti fai prendere dal panico, cioè, tutta la barca va male. Chiaro. Quindi si dice… Se non hai la responsabilità solo di te stesso. Oneri e non meriti al capovoga, perché se la barca va bene è merito di tutti, ma se la barca va male è colpa del capovoga, soprattutto nelle barche lunghe. E soprattutto, però, un capovoga eccellente non è niente senza un numero due ottimo, eh. non è niente. Ok, questa è la regola scritta. La regola scritta, sì. Cioè, tu puoi mettere il capovoga più bravo del mondo, con tre così, anche bravi, però così che… no, se non hai la spalla, che è un'ottima spalla, tu non andrai da nessuna parte. Non siete stati uno per l'altro, ma poi in generale tutti e quattro, appunto, a Parigi. Cioè, tagliate il traguardo. C'è il momento in cui vi accorgete, no? Cioè, capite, comprendete che avete al collo la medaglia d'argento. C'è questa scena… lui ve l'ha fatto capire, giusto? Perché c'è stato un momento in cui… Ah, ok, perché invece sembrava tipo lui che si gira e dice, ok, ce l'abbiamo fatta, Perché io, essendo a capovoga, comunque io arrivo per ultimo al traguardo. Vabbè, certo. Perché noi siamo dei gamberi, no? Noi andiamo indietro, siamo dei gamberi. E quindi ho la prospettiva completamente distorta da… Devi confrontarti con l'uomo quando sei in mezzo e non capisci… Perché non sentendo, cioè, guardando dalle immagini, invece sembra che sei tu che ti giri, come se dessi tu le notizie a loro… Dopo sì, dopo. Ok, ok. Però non sei visto il momento in cui io mi giro… E quindi… Mi fa… terzi. Io… Beh, fighe, terzi, Olimpiadi, cioè… Ero disperato per il fatto che abbiamo fatto quegli ultimi cinquecento… Che lui aveva tirato come un animale, poverino. A questo punto tiravo un po' meno e arrivava un fine fresco, invece… Bellissimo. Poi si accende il tabellone, ita secondi… Lì… Lì… Bello. Mamma mia. So che è difficile però descrivere a parole proprio quel tipo di sensazione, cioè… Perché comunque non è solo una medaglia olimpica, cioè c'è tanto dietro… Anche di quello che ci avete raccontato fino adesso… A partire proprio da… Anche da Tokyo, no? Dalla delusione di Tokyo. Eh, ma… Penso che la leggerezza… Che senti proprio a livello… Dentro. Mamma mia. Perché alla fine con Tokyo e tutti quei pesi, pensieri che ti porti… È proprio quello che senti che ti toglie il nodo allo stomaco. Cioè sei proprio lì… Senti leggero. Leggero, proprio… Basta. Finalmente dici, ah basta, cioè fatto. Certo. E quindi ti svuoti proprio, ti senti libero, tranquillo, ce l'hai fatta e… Cioè penso quello. Io… Sì, principalmente la stessa cosa, però io ho provato una felicità. Infatti ho veramente pianto tantissimo perché ho trattenuto un sacco di pianti da Tokyo in poi e ho sognato quel momento. Le volte veramente io dopo Tokyo sognavo di avere una medaglia che non avevo. Perché io non voglio dire che eravamo una medaglia scontata a Tokyo. Però era più difficile non prenderla che prenderla. Talmente eravamo forti. Quindi un po' è inconsciamente nella testa… Cioè pensi di arrivare a quella medaglia che ce l'avrai, no? Un po' un… Purtroppo è sbagliato ma in maniera inconscia di dar per scontata alcune cose, no? E io ho sentito questa felicità che spero che tutti sentano nella vita perché mi sono sentito talmente sollevato, come dice lui. Però quella felicità io credo che la raggiungi se cadi… E poi ti devi rialzare. Se tocchi il fondo, se prendi bastonate e ti alzi. Se tu ti alzi, allora poi potrai secondo me sentire quella felicità che, come ha detto lui, ti solleva. Infatti c'è stato un momento in cui ci siamo trovati in camera assieme, solo io e lui. L'abbiamo fatto… Ce l'abbiamo fatta. L'ho tirato il suo spirito di sollievo, eh. E lì, come ha detto lui, ti sollevi. Cioè ti senti una leggerezza pazzesca. Wow. Eh, l'avete descritto bene, devo dire. Non è mai facile descrivere le parole. Quando le vivi le cose… Però adesso avete proprio la mente lucida, compreso completamente la vostra impresa, no? Sì. Sì, quando ne parli fa sempre effetto. È vero. Più passare al tempo, più te ne rendi conto secondo me. Più te ne rendi conto. Sì, dell'impresa che abbiamo… Come ha detto il nostro allenatore, che il nostro allenatore… Io lo chiamo il velasco del canottaggio, no? Vito. Vito. Fa tutte le sue pillole di saggezza, no? Fa voi avevate una pressione a castigo di Dio. Cioè, avevate veramente una pressione per… Cioè, comunque, sembra assurdo, no? Ma… A Tokyo sono passati tre anni. Ma tu hai fantasmi… Il giorno prima della finale hai fantasmi come se fosse ieri. Pazzesco. Pazzesco. Come se non fosse passato nulla e… Nulla. Lui dice sempre, chi ha scritto nel DNA di prendere una medaglia olimpica, la prenderà. Perché se tu ce l'hai scritto, tu ti impegni per quello che sai fare e dai il massimo… Non è venuto a Tokyo per un errore. Chiaro. Ma poi noi… Perché noi comunque non siamo un fluke, no? Un colpo di fortuna che abbiamo vinto un'Olimpiade e poi… O abbiamo vinto un Mondiale e poi ci siamo ritirati. Cioè, noi abbiamo sempre dato costanza a tutto. Perché poi sai, alla fine dell'Olimpiade è un po' come ogni allenamento che fai, no? Non è che cambia qualcosa. E quindi tu, più sei tranquillo e più pensi che sia un allenamento, più andrai bene. Sì, perché nell'Olimpiade il problema è proprio tutto il contorno. La parola. Cioè, è tutto quello che si crea dal luogo alla tensione, alla pressione che gli altri ti mettono, che un paese intero ti mette sull'Olimpiade, più che in sé la gara. Perché tanti degli atleti che sono stati a Parigi hanno raccontato e sottolineato questa cosa. Cioè, ti ritrovi che anche i mostri sacri tremano delle volte le Olimpiadi. C'era un tempo che noi non avevamo mai… Mamma mia. Durante la prima garetta, ma… Che nottaggio. Io cercavo i microfoni, ho detto questo qua e lo sparano con i microfoni. Mi finto. Invece c'era una marea di persone, trenta, passa mila persone… Cioè… Voi non siete abituati a… Noi siamo abituati che ci guarda mia madre, sua madre, mio padre e suo padre. Ma risenti le campane di uno e basta. Basta, le campane dei nostri… Cioè, tutti i familiari… Oh, c'era tifo fino ai mille metri e la gara dura duemila metri. E io cosa facevo? Perché non sono abituato. Io uscivo dalla barca e non mi giravo mai a guardare la tribuna. Mai. Perché comunque io guardo… Perché ti puoi destabilizzare questo. Soprattutto se non sei manco abituato… Sì, dipende quanto reggi… Può dare cose positive e darne negative. Certo. Però penso che a noi… A meno in batteria è stato bellissimo perché arrivi e senti il casino… Devo andare… A meno a livello personale devo andare… Poi ci pensi… Però se fai così troppo salti ti bruci la gara, devi stare attento a… Sì, sì. Poi noi siamo abbastanza… Posso dirlo uomini da gara, eh. Magari c'è chi va in allenamento fortissimo in gara per, come hai detto tu, altre cose. Pressione, cade. Ma noi invece siamo più il contrario. Cioè, nell'allenamento magari è… Ma appena sentiamo quell'adrenalina di gara noi… Soprattutto lui si accende come un toro che vede il rosso. Come hai detto te, le pressioni sono tantissime. Infatti nel 2021 è quello che ci ha fatto perdere la medaglia. Cioè, noi per tutto il contesto che è successo quell'anno… Io mi ricordo ancora… A me chiamavano tutti i giorni a Tokyo. Quindi in orari anche non belli, raga… Giornalisti, le persone che mi chiedevano poi sempre dello stesso argomento. E… Cioè… Oh… Gli diciò basta. Tutti i giorni. Io non sono abituato, non sono né un calciatore né… Quindi… C'è una tensione mediatica… Poi figure sono a capovoga, quindi guardano un attimo… Cioè… Pensano che sia il leader… Ma magari anche a lui è successa la stessa cosa. Però io mi ricordo a Tokyo mi chiamavano tutti i giorni. Io non è che mi faccio vedere da loro che ti chiamavano… Mi chiamavano, no? Perché sennò poi sai… Non è carina come cosa. Cioè a me non piacerebbe vedere lui che magari va tutti i giorni a chiamare i giornalisti. E io lì tutti i giorni mi chiamavano. No… E quella è pressione allo stato puro. Poi sempre sullo stesso argomento. Andiamo a toccarlo perché ovviamente mi sembra… Mi sembra giusto anche perché voi ci tenete, no? A ricordare il vostro ex compagno Filippo Mondelli che avete citato anche prima, con cui avete vinto tanto, tra cui anche il mondiale del 2018. Lui purtroppo per una malattia è scomparso nel 2021, proprio quell'anno delle Olimpiadi di Tokyo. E diciamo che tra le tante pressioni appunto questa forse è quella che umanamente ovviamente vi ha toccato di più. E come avete vissuto quel momento in cui appunto tutti venivano a chiederti di questo? Perché tutti cercavano, diciamolo, no? Magari un modo per raccontare la vostra storia. Però allo stesso tempo non ti devi rendere conto che dall'altra parte c'è un trauma, un lutto, un dolore che probabilmente non si era ancora chiuso, no? Beh, poi è stato un percorso. Credo che Andrea sia la parte forse più dentro di questa storia. che non siano dentro, però lui ci stava in stanza assieme tutti gli anni prima di me. Quindi faccio parlare lui. Penso che non davamo modo di chiedere ai giornalisti perché noi in primis abbiamo fatto di tutto per portarlo in barca con noi. Infatti per mettere quella scritta 5 per Pippo sulla barca abbiamo dovuto fare delle richieste al comitato olimpico che lasciamo stare perché non si può scrivere assolutamente nulla sulla barca. La barca deve essere in tonsa senza scrittura. E quindi abbiamo fatto scrivere quel 5 per che nella nostra barca si chiama 4 per e quell'anno era 5 per in memoria di Filippo e dal momento che i suoi genitori ci hanno affidato la bandiera di Filippo era questo quell'altro oggetto. Pensavo di mettere quella nel box perché... Beh questa è sicuramente la cosa che ci accomuna di più ecco. Oltre alla medaglia che questo è... Non la apro perché è gigantesca. Prima della nostra... Guarda la mettiamo qua comunque. Prima della nostra vita questo è... Prima della nostra parte di vita questa sicuramente è la cosa che ci accomuna di più ecco. E questa è la bandiera che ci siamo portati dietro ad ogni gara. Ad ogni gara. E quando abbiamo fallito Tokyo c'è stato il compito di portarla... A Parigi. A Parigi. Cioè nel senso è slittato, è slittato tutto e è la bandiera che è sempre in Parigi con noi. Era una cosa anche... Uno stimolo, no? Cioè sapere che tu dai la bandiera che poi dovrebbe andare sul podio è una... Almeno per me è sempre stata una spinta in più. Anche perché hai un compito, no? Hai un obiettivo che ti porti veramente dentro. È dentro di te questa cosa. E se lo fallisci... Cioè ti senti un po'... Cioè il rimpianto di non averlo fatto è molto peggio. Del sacrificio che ci puoi mettere per provare a fare questa cosa. Chiaro che immagino che è anche uno dei sentimenti che avete provato appunto dopo Tokyo. Sì. L'avete dovuto mandare giù. Magari perché Filippo era un ragazzo che ci metteva il cuore più di tutti. Più di tutti. Cioè in squadra... Più di tutti. La fatica che ha fatto lui per arrivare su quella barca e inizialmente sul doppio... Penso che non l'ha fatta nessuno perché era quel ragazzo che magari sensibile e che spesso lasciavano fuori. Quindi nonostante ciò lui sempre in ogni momento della sua vita anche nell'ultimo periodo per assurdo era lui che trasmetteva forza a noi. Cioè io c'ho ancora il messaggio, c'ho la chat che l'ultimo messaggio è sei il mio braccio destro. E quindi diciamo che nonostante l'ultimo messaggio era sempre lui a trasmetterci energia a noi. Scusa non è? Sì, lui era particolarmente legato. Non che non lo fossimo però... Cioè viverci in simbiosi perché lui ci viveva in simbiosi, no? Facevano le trasferte assieme, vengono dallo stesso posto quindi macchine assieme. Crei sicuramente quel qualcosa in più, no? L'ho vissuto un po' come un fratello perché mi ha preso proprio... A volte durante era difficile perché magari lui si agitava parecchio prima delle gare e tutta la sua agitazione la trasmetteva a me. Ok. Infatti mi ricordo di molte situazioni che mi chiamavano anche i miei genitori e mi dicono perché sei agitato? Eh sì. Ma non sono agitato, cioè sono tranquillo. E quindi un po' di questa agitazione me la passava però era il suo modo di farmi sentire tra virgolette al sicuro perché sono entrato in squadra a 18 anni, lui era già più grande quindi stai tranquillo, stai tranquillo che va bene, fai così, fai così, fai questo. Mamma mia. E proprio ogni giorno era incredibile. Cioè mi ricordo anche uno degli ultimi allenamenti a Como insieme a lui nella sua società era affamato. Cioè ero proprio con gli occhi della tigre mi diceva. Dicevo intanto ci allenavamo però era una fonte di energia incredibile. E questo diciamo è quello che ci ha accompagnato. Sempre, lui è sempre stato positivo poi, sempre. Anche in un periodo che non riesco neanche a non mirare. Cioè è stato sempre positivo. Cioè è venuto a vedere prima degli europei, mi ricordo che la scherzava. Poi io lo trattavo come l'ho sempre trattato, no? Perché magari, sai, ci pare, lo tratti come se fosse tutto ok, però non è tutto ok, lo sappiamo. Quindi lo prendi in giro, poi esci e ti arriva tutto, no? Certo, però in quel momento si cerca di vivere la normalità, no? Perché anche probabilmente lui ha anche bisogno di vivere quella normalità. Io mi ricordo benissimo che è arrivato la settimana prima di noi degli europei che era una bomba. che era stato pure divertente perché lui era venuto a trovarci a Varese, nonostante la sua situazione complicata. Ci ha visto gareggiare in singolo, mi ricordo bene. Io forse non sono rimasto fuori oppure sono rientrato subito dalla gara. Lui si era ribaltato durante quella gara. Arriva lì fa, coglione di Giacomo, caduto nell'acqua, lancia i remi. E' proprio... Per fortuna quello non è mai mancato l'umorismo e stare bene. E voi quanto vi siete anche dati manforti in quel periodo lì, visto che siete così anche legati? Era una cosa che non si diceva, c'era talmente tanto che non si diceva, non si diceva. Poi sinceramente non so come l'abbiamo affrontato. E' proprio... Lo vivevi giornalmente? Sì, era tutto tanto. Tokyo è stato tutto tanto. C'è veramente un periodo molto brutto perché comunque hai in mano una barca che può prendere medaglia olimpica. Quindi le pressioni di far andare bene tutto. Dall'altra parte c'è questa altra situazione. Il Covid. Magari hai qualche parente che si ammala di Covid. Cioè sono tante situazioni che io l'ho sempre detto, l'Olimpiade la vince la serenità. Sì, devi trovare un modo di escludere tutto. Tutto. Escludere o comunque di affrontare le cose in maniera serena. E infatti noi abbiamo avuto un equilibrio queste due settimane e anche una settimana in campo olimpico di equilibrio. Cioè sentivi che le vibes erano proprio positive, tranquilli, sereni. Cioè lo vedi quando un equipaggio è sereno. Quando sa che è tranquillo, che è il suo valore lo andrà a esprimere. Lo vedi. Cioè io le capti proprio queste sensazioni. Cosa credete che vi abbia sbloccato dopo quel periodo? Dopo Tokyo? Sì. Non lo so. La maturità. Perché io quel periodo era successa la cosa di Pippo, cinque giorni dopo è successa una cosa a mio papà. Infatti. Mi era stato proprio periodo del cazzo. Mamma mia. Però non lo so, tuttora non mi ricordo. Diciamo che vivevi il momento, arrivavi in allenamento e come dicevamo prima cercavi di essere professionale, non ci pensavi più al resto. Poi rientravi, affrontavi quello che c'era da affrontare, vivevi un attimo… Avevamo un equipaggio a Tokyo che era fortissimo, ma noi ne avevamo sereni, litigavamo sempre, discutevamo, scendevamo, arrivavamo tardi, come dice lui. Lui si faceva il sangue amaro, il sangue amaro me lo facevo io. Avevamo una Ferrari che abbiamo portato fuori vista. Ci diciamo che avete avuto bisogno anche un po' del tempo che passasse. L'importanza, mi hai detto all'inizio, era quello di dialogare, no? Su questo siete sempre stati un po' più resti magari a parlarne. Sempre. Sono stati orgogliosi che non servono a niente. Esatto, esatto. Cioè magari c'era bisogno forse di un momento in cui… Non eravamo squadra lì. Non eravamo squadra. Insieme dire ok sfoghiamoci. Eravamo quattro forti ma non eravamo una squadra. Non eravamo squadra. Ed è quello che ci ha… Ci ha fregato, sì. Non eravamo squadra. E dopo, grazie a me e lui, perché secondo me lo posso dire, abbiamo creato la squadra. Chiunque si arriva in barca con noi si creava una squadra. E da lì l'abbiamo portato fino a Parigi. Per chiudere il cerchio Parigi, no? Oltre a quella miriade di persone a cui non eravate abituati, oltre alla vostra famiglia, c'era anche la famiglia di Filippo presente lì con voi a tifarvi. C'è sempre questo video che tra l'altro ho girato io praticamente lì a Casa Italia. Quando vi siete incontrati… Sì, sì, ero io. Scusa, ma… No, perché io ero lì a aspettare praticamente di farvi l'intervista, no? Nella Mixon. E poi… No, abbiamo fatto l'intervista prima, se non erro. Perché è stato… Non mi ricordo più se è stato prima o poco dopo. No, dopo dopo dopo. Esatto, e quindi essendo lì… E poi a un certo punto ho visto i genitori di Filippo e so che era un momento intimo, no? Però era anche molto bello. Cioè era anche un messaggio che poteva arrivare molto forte alle persone a casa. E quindi devo dire che ero indecisa sull'essere invadente oppure no, ma però era proprio bello da vedere, era bello vedere questo momento in cui quella promessa che avete fatto a lui, insomma siete riusciti a mantenerla così e a dare anche questo bel momento, no, di condivisione con i suoi genitori. Questo ricordo, no, di voi insieme anche alla sua famiglia penso che resterà tantissimo insieme anche alla medaglia stessa perché sai le imprese comunque rimangono… si ricordano soprattutto quelle sportive fatte così, come la vostra, no? Con questo rush finale, molto emozionante. Però delle tante cose extra gara che si ricorderà di Parigi sicuramente ci sarà sempre anche questo. Fa parte di noi. Sì. E' giusto, secondo me è anche giusto che faccia parte di noi e raccontarla perché si deve prendere tutto il… non il merito, però… c'è veramente stata una storia che… straziante da un punto di vista e soprattutto vedere i genitori di Filippo che ci sono sempre stati vicini. Ma… La loro forza anche, no? Con una passione, con un sorriso. Cioè io quando li guardavo le volte dicevo ma come fate? Cioè anche lì a Casitalia o in qualsiasi posto, cioè ti guardavano sempre col sorriso, ti abbracciavano come… Come se fossero loro figli. Cioè per me quella roba è stata un punto di forza e abbiamo fatto preparare una medaglia d'argento in teca e gliela daremo con su scritto 5 per. Bello. No questo vi fa onore, tra l'altro è una delle cose che in tanti hanno richiesto, cioè ricordo i commenti sotto a quel video, no? O alle vostre interviste e tante persone hanno scritto, cioè hanno scritto ad esempio ma il CIO dovrebbe dare una medaglia… L'ho visto? Davvero? Sì sì sì, un sacco di gente l'ha scritto sotto. E tanti che ricommentavano dicendo siamo d'accordo, è una cosa bella, perché non fanno fare una medaglia in più? Te lo giuro. Io ho letto. Io ho letto. Me lo ricordo perché… Ogni volta a dirlo è straziante il video, quindi per leggere i commenti non ho mai… L'ho aperto… L'ho visto solo quel video lì quando andiamo a vari eventi, magari con te ecco, a Trento, però… Ma pensa te. Sì sì. Eh no, non ci ha pensato… La chiedevano a gran voce questo, no? Sì sì, ma ci abbiamo pensato noi. Avevamo fatto proprio appunto una festa a Olcio dove lui ha dato la sua medaglia al padre di Filippo e gli ha messo al collo che se lo merita di qualsiasi altra persona, soprattutto la sua medaglia perché è quella dove era più attaccato a Filippo. Quindi adesso ce la potranno avere in casa. Chiediamo guardando il futuro allora. Prima faccio un piccolo escursus extra canottaggio perché so che Andrea stai facendo la pazzia del secolo, ok? Cioè Andrea praticamente sta provando a partecipare a Milano Cortino 2026, tutto vero. non con la barca perché Massimo può andare su ghiaccio, fa un po' più frappai che lui esce in canotta anche d'inverno, però non con la barca ma col Bob. Sì sì sì. Impressionante questa cosa. Hai fatto i test? Ma lo fai solo per la fornitura? No, non lo faccio solo per la fornitura ma posso dire che il primo obiettivo è la fornitura. Sinceramente a me piace un sacco la fornitura e come primo obiettivo io c'ho sempre quello perché comunque devi partire dal basso e poi la cosa bella è che devi costruire tutto da zero, quindi non sei nessuno, arrivi lì dove fai test che non sei nessuno e devi rifare tutto da zero. È quasi bello perché rifai un altro percorso come se fossi bambino. È un ripartire proprio da capo. Ho fatto i test, secondo me sono andati bene, però vediamo in due mesi di preparazione diciamo che poi non avendo mai fatto atletica, non avendo mai corso, sembro un gorilla quando mi parto a correre. In due mesi ho corretto il più possibile e ho fatto i test. Secondo me sono andati bene anche, loro si ricordavano la prima impressione nel 2021 quando avevo provato gli allenatori e avevano detto hai corso? Tu cevi già e li hai provato. Sì dopo Tokyo, dopo la batosta ero andato a provare così per curiosità. Infatti è da lì che si è spostato tutto dopo Parigi perché ho detto dopo Parigi ci provo. Lo dicevo a tutti dopo Parigi ci provo. Furia di dirlo, è arrivato a Parigi, è passato a Parigi. Ok adesso devo provare. Ti ha spinto anche molto più la medaglia, il fatto di sentirti così leggero e dire sai comunque un cerchio non è chiuso ma quasi, nel senso sono arrivato comunque all'obiettivo posso dedicarmi anche a qualcos'altro. D'altro Bob però in quattro giusto? Anche lì? No, non lo so, io ho provato da solo. Il test l'ho fatto da solo. Poi loro scelgono. Esatto, ognuno ha fatto il test singolo. Però dove è più probabile che tu possa gareggiare in quattro? Da quel che ho capito solo in quattro. Solo in quattro, infatti. Sì, 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 solo in quattro. Deve spingere pure lì, è impressionante. Sì, però dai per poco, su deve spingere per 30 metri, cosa si lamenta, in barca deve spingere per ore e ore. Sono cinque minuti e mezzo, di qua sono sei, sette secondi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Acqua fresca. Si può fare. Andiamo a vedere. Quello che dicevo è che è piacevole allenarsi perché comunque il canottaggio è due ore e mezza che fa il contrario. io guardo la schiena del mio compagno, invece quello un giorno fai salti sui gradini, un giorno fai corsa, un giorno fai pesi, cioè sono tante cose diverse. Stimolanti, stimolanti, cose diverse sono sempre stimolanti, ecco. È un'avventura nuova. Quindi, allora, siamo tutti pronti ad andare a Milano Cortina a tifare Andrea. Speriamo, speriamo. No dai, non tiriamola così, ma... No, no, vai, vai, speriamo. No, io ci provo. Invece in barca quando si torna? In barca... Ma in realtà... Ti ho toccato l'emergometro. L'emergometro sì. Io, tipo, un minuto al giorno faccio dire. Proprio per vedere se ho ancora in movimento. Devo farlo stamattina, in realtà. Poi mi sono dimenticato, perché me l'ho dimenticato. Infatti ho scritto... Di solito sono sempre io che mi dimentico di fare il cazzatore. Ho scritto l'altro ragazzo, ma io devo andare a Milano oggi. Ecco. Allora, basta, non ho più fatto l'emergometro, però... Io invece ho una... A parte che tu hai fatto i mondiali, lui già ha fatto il mondiale di Costa Roma. Ah, certo, vero. Non è canottaggio, ecco, togliamo... Non è canottaggio. No, beh, è il nuovo canottaggio, perché... Sì, perché entrerà... Quello che si vedrà all'Osangeles, esatto, al posto dei pesi leggeri. Sì, sì, sì. Però io, guarda, sono rimasto allibito da quanto non è canottaggio. Per te è completamente diverso. No, è un altro sport, è un altro sport. Diciamo che è forse più bravo, è forse più per... Più scenico, fighissimo, si fa la spiaggia, no? Per avvicinare... C'è una spiaggia, musica... Comunque resta sempre uno sport nuovo, diverso. Magari bisogna vedere come andrà, però... Lui potrebbe andare forte in questo sport, perché la gara è 250 metri e 250 metri. Non ti chiedo che questo è capace di fare quattro metri e pure quell'altro, capito? Lo farà, lo farà. Lo farà, lo farà. Il problema è quello, mi danno tutte le idee. All'Osangeles. Anche quando vado adesso ad allenarmi, c'è il campo di rugby in mezzo, e quindi c'è il mio vecchio allenatore, mi fa... E tu potresti tornare a fare rugby? Hai capito? Cioè, richiesto ovunque, a me è su una parte. Non posso. Ci serve una giornata da 48 ore, praticamente. Non mi dà nessuna parte. Poi dico, non mettermelo in testa, perché il problema sono le cose che ti metti in testa. Sì, è vero. Beh, tu vai a correre, maratona. No. Perché ti ha fatto la maratona, lui, la maratonina. Maratonina. Io, guarda, da dopo Parigi non ho mai più fatto niente. Non è vero, adesso va a fare una gara di triathlon, ne fa di roma. Sì, ma non mi preparo però, veramente, io non corro da luglio. Infatti io lo dico più adesso che prima, però infine, scherzo. Però la prendi in maniera diversa, no? No, no, la maratonina l'ho presa come... Sono 21 chilometri, eh. Io l'ultima volta che ho corso 21 chilometri era tre anni fa. La vecchia maratonina. La vecchia maratonina. Io non corro da quattro mesi, però è che non corro. Però l'ho presa proprio come sfida per farmi vedere a me stesso se ancora avevo la testa. Ok? Perché l'ho presa proprio come filosofia di vita questa maratonina qua, no? Perché se tu... In effetti ora mi sento un po' realizzato, no? Come hai detto, te sei chiuso un cerchio. E quindi far attività fisica e sforzarsi e soffrire è più difficile quando sei un po' realizzato. Sì. Parliamoci chiaro. Quindi ho detto dai, fammi vedere. Mi metto in gioco. Senza aver preparato niente, faccio la sfida con un maraton... No, un marciatore che ha fatto anche lui le olimpiadi. Facciamo la sfida e vediamo se riesco ancora a soffrire. Perché si parla di questo, di soffrire. Io sono arrivato al quarto chilometro e ho detto chi me l'ha fatto fare? Mamma mia. Si è pentito. Chi me l'ha fatto fare? Poi dopo ho sbloccato proprio quella cosa che basta, mi sono messo giù e ho tirato avanti, ho sofferto fino alla fine e sono riuscito a portarla con un ottimo anche tempo. Quindi ho detto ok, ancora la testa è buona. E la testa verso Los Angeles vi è già volata là o ancora non ci avete pensato? Ma io personalmente... Cioè a me faccio la scaletta faccio. Bravo. Per ora c'è questo. Però ovviamente devo stare attento, ragionavo ieri, devo stare attento a non mollare troppo il canottaggio perché sennò poi è difficile di partire. Però Los Angeles, secondo me nella scaletta c'è. C'è. Eh sì, sono d'accordo con lui nella scaletta, c'è Los Angeles. Come hai detto giustamente, io penso che un cerchio sia chiuso, ok? Perché alla fine siamo otto anni che siamo in ballo per queste Olimpiadi e io mi rendo conto solo adesso che io ho da otto anni che non sto così tanto tempo a casa mia. Cioè Massimo durava tre settimane, ora sono da mesi che sono a casa, i miei genitori infatti non ci credono. E ora bisogna aprire un cerchio più grosso. Los Angeles c'è. Poi arrivare alle Olimpiadi, io ho sempre detto che cosa più difficile da fare è arrivarci alle Olimpiadi. Può succedere purtroppo... Quattro anni sono infiniti. Ne abbiamo viste qualsiasi cosa. Poi volano a un certo punto. Volano però il problema è che devi mettere in conto i fortuni. Lì, diciamo che sembra ieri, però effettivamente sono lunghi da fare. Tre anni sono più corti, ecco. Eh sì, sì, sono volati un po' di più. Quattro anni sono veramente lunghi e noi ne abbiamo viste tutti i colori e può succedere qualsiasi cosa. Però diciamo che rispetto anche al discorso che abbiamo fatto prima, ovvero la difficoltà sta nel riconfermarsi, ecco, ci sarà questa difficoltà forse in più nel nuovo ciclo che vedete magari più leggermente ma con più leggerezza però dall'altra parte con il fattore di arriviamo da medagliati. Più coscienza di noi, perché sicuramente ora prendi una conoscenza non indifferente, però il riconfermarsi sarà la cosa più difficile. Questo sono pienamente d'accordo. Poi quest'anno è l'anno posto olimpico, quindi per tutti gli sport olimpici sarà l'anno più tranquillo, ecco. Certo. Vedremo. Ci sono i mondiali a Shanghai il 28 di settembre, quindi vedremo. Ok. Allora io ragazzi vi auguro comunque il meglio e vediamo, speriamo di tifarvi anche per prima ovviamente di queste Olimpiadi di Los Angeles e di seguirvi durante questo percorso perché comunque il vostro è uno sport veramente nobilissimo, uno sport di fatica, meritate tanto e meritereste molta più visibilità e quindi insomma… non è poco riconosciuto, poco visibile purtroppo. Purtroppo però dopo un po', cioè noi non lo facciamo per soldi, per certo di sponsor, se qualcuno ti aiuta o ci crede in te è più carino, no? A nessuno fa schifo quella roba. Certo. Molto chiaramente, però lo facciamo per passione sicuramente e per il fuoco ancora che abbiamo per questo sport. però certo ci piacerebbe avere più visibilità, anche perché la fatica è tanta, è troppa anzi. Certo. Perché è uno sport che secondo me vale tanto, vale tanto… poi a Los Angeles sarà 500 metri in meno la distanza, quindi sarà ancora più spettacolare. Tu devi spingere un pochettino prima, eh. No. Lui è meglio. Non per capire perché… Se non c'è quel 500 dove riposo, quando riposo. Esatto. Riposare 250 metri ovviamente, sì, si accorcia. Giusto. No, però secondo me può essere un punto favorevole. Dobbiamo vedere un attimo anche negli anni se qualche ragazzo arriva che cresce… Ma chi ti batte a te? No, vabbè, ma per dire anche… C'è Luca… No, lui parlava di te, capito? Sto scherzando. Questo po' lasci… Per mettermelo già adesso e starlo, no? Lui voleva sentire, capito? Allora il tarlo glielo metterò sicuro. Adesso il tempo, quando torno… Adesso sono tranquillo con il canottaccio. Quando torno… Appena trova il primo ragazzino che è bravo… Quello ti fa il posto. Quello ti fa il posto. Quello ti fa iondro. Quello ti fa il posto. Ah, perché devi sentire la pressione per andare. Giusto. Giusto. Il problema è quello. Ora come ora siamo veramente contati. Luca probabilmente smette, non si sa, deve ancora capire cosa fare, però lui è veramente forte. Sì. E bisogna vedere se la schiena anche gli regge fino a Los Angeles. Se salta lui, dobbiamo aggiungere un nuovo all'orchestra, quindi… Sarebbe bello tenere noi ancora per quattro anni, sarebbe veramente bellissimo. Certo. Se Luca regge… Certo. E gli altri a meno che diventano tutti… Eh, se Luca regge… Penomeni, certo. No, perché comunque abbiamo visto che questo equipaggio a Tokyo, a Parigi e se ci arriviamo a Los Angeles, va. Cioè, va. Perché non siamo scesi dal podio. A meno che succeda qualcosa, che si sveglia tutto il mondo per far canottaggio e escono dei fenomeni, però posso dire che anche loro sono dei fenomeni e anche noi ce la caviamo, quindi… No, no, lo siete, insomma. Possiamo dire, dai. E quindi… Ecco. Ci tenevo solo a ringraziare anche la Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle, perché ci hanno sempre sostenuto, ci hanno sempre dato l'opportunità di essere anche un po' liberi, perché ci sono sempre fidati di noi, è proprio una seconda famiglia per noi. Quindi dalla parte più alta della finanza al nostro comando ci hanno sempre, sempre tutelato e sempre sostenuto, ha anche magari un messaggio in lontananza, quindi sicuramente dobbiamo ringraziare il nostro corpo perché non si può dire che non ci coccola, ecco. Parliamo prima anche relativamente di… Sì, sponsor, cose? Il primo sponsor. Diciamo che, esatto, c'è chi permette di poterlo fare come professione in Italia, sono i gruppi sportivi e quindi sicuramente un grande grazie anche a loro per l'impegno, insomma, per quanto crede in quelli che possono essere campioni o futuri campioni, perché bisogna credere anche ai giovani, no? Sì, è proprio… Probabilmente lo farà ancora a muratore… Va bene, è il caso di chiedere a… Non ti ho sprecato… Quando ti annoi, vuoi cambiare, no? Lavori da fare, eh? Senti, ma devo costruire qualcosa qua in caserma o qualcosa… Non lo so, faccio io. Per i più avanti tornerò utile. Io vi auguro davvero il meglio, vi auguro anche un po' di rilassarvi a un certo punto, tra uno sport e l'altro, per favore. Dilo a lui questo. Io ho detto la prossima maratonina tra altri tre anni e io basta. Ok. Basta, quindi dilo a lui. E vi auguro il meglio anche per le prossime gare, per tutto questo, insomma, nuovo quadri neolimpico che si aprirà verso Los Angeles. Grazie mille Giacomo, grazie mille Andrea, davvero ho fatto super piacere e bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie.